a luna è uscito il nuovo singolo di fedez dal titolo allucinazione collettiva poco dopo il post del rapper milanese che annunciata l'uscita del brano è intervenuta anche selvaggia lucarelli che ha svelato una parte del testo ed ha scritto indovinate di cosa parla la nuova canzone di quello che i figli non si toccano e chiara sarà sempre la donna più importante della mia vita il singolo di fedez è uscito ma nella versione finale non ci sono riferimenti ai figli leone e vittoria la lucarelli ha spiegato il motivo dopo la storia di ferragni e le indiscrezioni uscite ha eliminato la parte della canzone che parlava dei figli ma che girava già da ore selvaggia ha poi condiviso nelle sue stories su instagram la parte tagliata della canzone di fedez fedez la parte di testo tagliata dalla versione finale e non si capisce la vita ferisce e il tempo lenisce ma il cuore sparisce ma non si capisce papà a casa nuova ma per farvi dormire da me mi ha chiesto dei soldi perché il patriarcato è il male del mondo sì quello dei sogni fisso questo foglio vorrei ma non voglio ficcarmi nel c asterisco asterisco o quel cavolo di orgoglio dimmi che questo è un incubo che hanno mascherato da sogno con te ho vissuto cose che io non rivivrò mai più sbagli se pensi che non ho mai amato per te avrei ucc asterisco somma tu mi hai fermato